A via a tutti i miei legionari barbarossi non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto, il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Europa Universalis 4, quanto tempo Europa che non ci vedevamo e finalmente siamo tornati. Allora come al solito invito tutti i barbarossi non iscritti a iscriversi a fine video se il video gli dovesse piacere, invito tutti voi a lasciare qua sotto un bel like e a condividere il video e attivare la campanellina qua sotto. E adesso parliamo di cose serie, ovvero cosa andremo a fare in questa campagna? Andremo a fare una missione suicida, infatti partiremo non al solito anno, bensì nel 1502 in Italia e questo è un casino perché la Francia è al massimo della sua potenza, ci servirà come alleato. E quindi dovremo sfruttare l'alleato prima di attaccarlo e sarà un bel casotto. Tra l'altro una cosa buona è che non c'è più il Sacro Romano Impero in Italia, lo Shadow Kingdom è già stato fatto e quindi sarà un po' più facile. E naturalmente con chi andremo a giocare? Con il Duca Cesare Borgia che ha un ottimo 3-4-5. E tra parentesi voglio mostrarvi una cosa molto curiosa, vabbè a parte il fatto che Urbino in realtà Cesare Borgia storicamente l'ha tenuta poco tempo, poi l'ha ripersa e lui è stato più Duca di Romagna. Sì, ha preso anche le Marche per un determinato periodo, però, cioè più che Duca Principe in realtà di Romagna. E la cosa curiosa ragazzi è che se noi andiamo al primo marzo c'è sempre il Duca Cesare Borgia con il suo bellissimo 3-4-5. E a Cesena c'è il Duca Cesare Borgia, quindi, what the fuck? Cosa? Come? Perché? Ci sono davvero tante domande quando, in questo momento, e vabbè ragazzi noi inizieremo naturalmente al, ma no, non ho sbagliato. Naturalmente inizieremo al primo gennaio, quindi il prima possibile, con il Duca Cesare Borgia, però volevo farvi vedere questa curiosità. In ogni caso partiamo, e partiremo con l'Iron Man, naturalmente. Ok ragazzi, quindi, scegliamo la Iron Man Mode, il salvataggio lo chiamiamo Italia Borgiana. Ci sono due autosalvataggi perché avevo provato a vedere se era fattibile come cosa liberarsi dallo Stato Pontificio, e lo è, ma solamente con il supporto francese. Quindi dobbiamo sperare, naturalmente, che la Francia ci veda bene e che ci aiuterà a liberarci del Papa. Tra l'altro sarà molto tosto riunire l'Italia, ed è per quello che ho messo come scopo riunire l'Italia piuttosto che rifondare l'Impero, perché dobbiamo sfruttare la Francia per liberarci, ma in seguito dovremo combattere contro la Francia, quindi sarà davvero molto difficile. Allora, come prima cosa, ci mettiamo subito a migliorare le relazioni con i francesi. Andiamo anche a fare covert action contro il Papa, così magari riusciamo anche a farci una claim. Tra l'altro per l'alleanza con la Francia, o meglio per il loro supporto, dovremo aspettare che finiscano la guerra contro Milano. Infatti, se guardiamo, loro accetterebbero di supportarci, ma solamente dopo aver finito questa guerra contro il povero Duca Ludovico il Moro. Decisione, la Dieretico Comburendo Act, più 2% dei tasse, più 0,5% di Missionary Strength è ottima. I States non dobbiamo fare niente, siamo vassalli del Papa, naturalmente. Abbiamo un limite delle truppe, un land force limit di 4, che è diminuito di 3 per via del Papa, naturalmente. Quindi noi cercheremo di portarlo al massimo e nello specifico, dato che ne abbiamo 3 in meno, potremmo averne 7. Cercheremo di avere 7 unità. Lo andiamo a fare subito, facciamo 1, 2, 3 e 4. No, non posso, malissimo. Va bene, allora cominciamo magari a fare qualcos'altro. No, io vorrei quello, quindi non facciamo niente per ora. Andiamo a diminuire l'army maintenance, così mettiamo da parte i soldi per fare anche quello, forse. Per quanto riguarda religione, naturalmente, sian cattolici. Stabilità ed espansione non c'è niente, decisione politica l'abbiamo già fatto. Ah, le policy non possiamo ancora farne, perché abbiamo solo le idee difensive. E infatti, ragazzi, a tal proposito, le idee difensive in realtà non sono il massimo, non le avrei scelte, ma toglierle ci darebbe soltanto 280 di military power, il che non è per niente buono. Anche perché un'idea costa più o meno 400, quanto? 380, e quindi togliere un intero gruppo di idee per riprendere così poco non ne avrei la pena. Anche perché le idee difensive non sono neanche così male. Attrito ai nemici, minore attrito per noi, più velocità di rinforzo, minore mantenimento dei forti e maggior difesa dei forti, minori costi di mantenimento delle truppe, cos'è questo? Maggior land maneuver che serve per le battaglie dei leader, maggior morale alle truppe e più army tradition, quindi non è male. Poi idee italiane abbiamo un minore costo alle idee grazie al rinascimento italiano, un minore mantenimento ai mercenari per la cosa dei condottieri, che sapete che in realtà io non lo uso quasi mai. Potremmo fare tutte e tre queste, al momento siamo a 6, 7, 8. Ok, direi che lo teniamo così anche perché non... per il momento quella che ci interessa di più è quella militare. Diplomazia abbiamo già fatto, qua se prendiamo un advisor moriamo di fame, quindi al momento direi che non vale la pena farlo. Finché non abbiamo la guerra, mettiamo il signorino qua a proteggere o perlomeno influenzare il porto di Venezia e facciamo partire. Triangolo commerciale, il papa fa divert trade che ci aumenta il libert desire, ottimo. La Francia ha finito la sua guerra, ok. Non ci supporterebbe ancora per l'indipendenza, ma fra poco sì, quindi ottimo. Noi glielo andremo a chiedere subito, naturalmente. Per quanto riguarda le alleanze invece siamo un po' più... messi un po' peggio, però vabbè, ce ne faremo una ragione. E in ogni caso, se ci supportano nella guerra di indipendenza, già è un grande passo in avanti, perché comunque se riusciamo a liberarci saremo automaticamente alleati con loro. Olè, tutta la gente che fa le golden era, bravissimi, bravissimi. Noi la golden era direi che non la riusciremo a fare. Quante ce ne servono? Start golden era, ne dobbiamo avere almeno tre, oddio. Potremmo riuscirci, perché questo qua è fattibile, questo no, ok. E dobbiamo umiliare un rivale. Oddio, ce la potremmo fare se andiamo a fare questo, eh. Devo dire che ce la possiamo fare. Ok. Magari una guerra la faremo semplicemente per umiliare qualcuno, in un momento in cui abbiamo tanta aggressive expansion. Nooo, il leader francese, il re francese è stato scomunicato e non possiamo chiedergli niente, perché la scomunica gli dà un meno 50, va bene, allora ci toccherà aspettare. Abbiamo il massimo di force limit, che ci permette di avere meno land maintenance modifier per 25 anni e maggior morale agli eserciti. Ok. Però non lo andiamo a fare subito, aspetteremo la guerra per farlo, che vi sembra un'idea più saggia. E ci toccherà anche aspettare che alla Francia venga tolta la scomunica, perché se no non ce la possiamo fare. Quindi, mettiamo la velocità al massimo, naturalmente teniamo d'occhio la Francia, smettono di fare diver trade con noi. C'è ancora nostro padre, sì, c'è ancora papà Alessandro VI, ok. Noi qua stiamo aumentando l'esercito, siamo ancora in positivo, ma penso per poco. Il papa ha deciso che dobbiamo imbargare i suoi rivali, ok papa, va bene, va bene. Noi speriamo di riuscire a fare la claim, ha deciso che non lo dobbiamo più fare, ma è un po' indeciso in questo momento. Continuiamo ad essere in positivo, 0,53, quindi fra non molto riusciremo anche a reclutarci un'altra unità, nello specifico un altro pezzo d'artiglieria, dato che vorrei fare quello. Saremo appena in negativo, ma chi se ne prega ragazzi, ce ne faremo una ragione, anche perché spero che la Francia ci aiuti. Cosa succede? Durante il 1400-1600, gli ingegneri italiani d'assedio erano molto ricercati per insegnare le vie dell'esercito italiano ai militari in Europa. Nella maggior parte dei casi questi ingegneri non avevano un'identità nazionale e lavoravano per chiunque potesse permettersi di pagarli. Allora, 40 military power, gain at skill 2, fort offense più 20 military engineer. Ah, non è male anche perché è più... è più economico. Cioè, ci costerebbe come uno normale, ci sta. Però non penso di andarlo ad assumere subito perché sennò andiamo subito in deficit e non posso permetterlo. Anche perché tanto, anche solo facendo così abbiamo guadagnato 40 di military e ci va già bene, oserei dire. Caro francese, si è ancora scomunicato? Sfortunatamente sì. Quanto ci serve per fare la claim sul Papa? 20, ok, vabbè. Nel frattempo riusciremo a fare quella e ci va già bene. C'è un limite massimo entro cui possiamo fare questa? No, direi di no. Tra l'altro abbiamo bisogno di più tempo per accumulare i soldi necessari per quell'unità, ok. Ma noi ragazzi dobbiamo solo aspettare la Francia in realtà. Generale promettente. Uuuuh. Che bello, generale con 50 di tradition. Questo è ottimo. Fatemelo vedere un po'. Damiano Prignano. Mamma mia che mostro. È un mostro ragazzi. Ok, vediamo se riusciamo a... No, no, no. Non possiamo fare il drilling, sennò andiamo in negativo come pochi. In compenso possiamo fare una claim sul Papa e nello specifico, allora abbiamo la Romagna che è 16, questo 14. Noi la vogliamo sulla Romagna direi. Ok, Romagna. Voilà. Abbiamo la claim sulla Romagna. Continuiamo a fare lo Spy Network. Qua siamo ancora a meno 48. Basterebbe che gli togliesse la scomunica e ce la potremmo cavare. Ok, ok. In compenso ci servirebbe anche un matrimonio reale, ma al momento non possiamo farlo con nessuno. Se non forse con la Navarra. Dynastic Action. Royal Marriage. Lo possiamo fare con la Francia. Sapete che vi dico? Che cerchiamo di farlo subito. Abbiamo bisogno di una sposa per il nostro Cesare Borgia. E la vogliamo francese. Ah, non posso farlo perché... Vale. Vabbè. Ok, facciamo così. Lo sforzo politico degli ecclesiastici. Ok. È venuto il tempo per gli ecclesiastici di scegliere un nuovo leader che assiste al nostro Duca nella capitale. Il loro candidato è un vecchio ecclesiastico con una solida storia e con un membro prominente, quindi un membro importante del clero dietro di lui. Cioè, nonostante ha ottenuto molti nemici durante il corso della sua vita e che adesso sperano di vedere un candidato più giovane con un passato meno voncio, mettiamola così. Il Duca, come Duca, non sarebbe difficile influenzare l'elezione di un candidato più giovane, che di sicuro sarebbe più leale. Dove essere in the middle of the first? Questo, naturalmente, sarebbe visto come un'intromissione negli affari della chiesa e indebolirebbe la fazione nel lungo termine. 10 di influenza al clero, oppure perdiamo 7,94 Ducati, 10 di prestigio, il che in realtà non ci conviene tantissimo. E guadagniamo però 10 di fedeltà del clero. Non so quanto ne vale la pena, anche perché il supporto della chiesa non ci serve particolarmente, no. Gli do influenza in questo momento, non potevo permettermi di fare l'altro, sinceramente. Quindi direi che va bene così, facciamo andare avanti il tempo. There will be blood. Che nazione è? Ah, ok. Questo è un casino in Irlanda, che tra l'altro è tutta spezzettata, guardate che bella. Colorosa che è. Colorosa? Ragazzi, è colorosa il sdegno petaloso, decisamente, decisamente, ma porca miseria, colorosa, ma come mi vengono in mente certe cose. Dai papa, gliela togliono sta scomunica al grande blob francese? Eh, sarebbe anche l'ora, dannazione. Va bene, vi schippo un pezzo fino a che il papa non gli toglie la scomunica, o perlomeno noi non gli possiamo chiedere di supportarci l'indipendenza. Ok ragazzi, è stato letto un nuovo papa. Alessandro VI è morto e adesso c'è papa Callisto. Ok, la Francia però comunque rimane scomunicata, al che non ci piace per niente. Noi fra pochissimo potremo fare fortunatamente una nuova claim sullo stato pontificio e l'andremo a fare naturalmente su Ancona. Ed è per questo che ho fatto riprendere il tutto. Il papa ha dichiarato una crociata contro gli ottomani. E chi parteciperà a questa crociata? Chi lo sa? Vabbè, in ogni caso noi continuiamo con la nostra solita politica. Tra l'altro possiamo anche cominciare a farci la nostra settima unità, quindi quel cannone che volevamo. Adesso fra pochissimo, ok, non fra pochissimo ma subito possiamo farci la claim su Ancona e direi che smettiamo che tanto non riusciremo a farcela così tanto. Vediamo un attimo i nemici della Francia che sono Austria, Moscovia e Ottomani. Quindi cerchiamo anche un avvicinamento con i francesi, che tuttavia, scusate, con la Castiglia, che tuttavia non penso ci aiuterà. L'Aragone invece è in unione personale con la Castiglia, quindi ci interessa solamente la Castiglia. Ah bene, proviamo a migliorare le relazioni con loro. Royal Marriage non possiamo farlo naturalmente perché siamo vassalli, ok, allora aspettiamo. Qua fra non molto dovremmo comunque poter fare il supporto independent, siamo a meno 29. In realtà stiamo aspettando che scenda l'aggressive expansion, ma anche se gli sparisce la scomunica dovremmo potercela fare. Quindi incrociamo tutte le dita e speriamo in bene. Vediamo se siamo in negativo, sì, siamo in negativo con il cannone, quindi direi che cominciamo a fare la cosa della missione. Che ci lascia comunque in negativo, oh ma questo è male, questo è molto male. Va bene, ci tocca cominciare a prendere un prestito, è l'unica. E noi dobbiamo sperare che la liberazione avvenga il prima possibile. Certo che se gli togliesse questa scomunica io davvero sarei più contento, anche perché qua il tempo va, dannazione. Il tempo va e non mi piace come cosa. Parca miseria. Il fatto è che abbiamo naturalmente indispensabile bisogno della Francia, perché non ce la possiamo fare da soli. Anche se abbiamo un generale migliore, verremo arati molto malamente. Abbiamo migliorato al massimo le relazioni con i francesi. Siamo a meno 21. Bene o male scende di uno al mese, quindi teoricamente in ancora massimo due anni ce la potremmo fare. Il fatto è che è tanto tempo, dannazione. Tanto tempo. Un avvicinamento con gli ottomani è fattibile? Sì, peccato che sono rivali dei francesi, quindi sarebbe abbastanza inutile per noi. Vabbè, sapete che vi dico? Che magari cominciamo a fare una claim su qualcuno qua attorno. Nello specifico potremmo cominciare a fare magari una claim su Ferrara. Che dite? Oddio, è più 25. In realtà potrebbe essere il nostro nuovo alleato, quindi... Sì, meglio lui come alleato di Arezzo, naturalmente. Quindi vabbè, proviamo a migliorare le relazioni con Ferrara. Un altro alleato, anche minore, ci serve. Quindi proviamoci. La Francia ha costretto un manto a rompere l'alleanza con la Navarra. Addirittura. Con cotanta cattiveria. Va bene, va bene. Noi facciamo andare avanti e vediamo che succede. Ragazzi, il Papa mi ha appena regalato 50 Ducati, ma... Naturalmente noi ci vorremmo liberare comunque di lui. L'unica cosa, non so se ci sarà possibile avendo un Liberty Desire così basso. Vabbè, speriamo di riuscirci. Il fatto è che non scende da nazione la nostra opinione dal re francese. E quindi non possiamo chiedergli l'alleanza da nazione. E questo è davvero male. Parca miseria. Vedete, rimane così e ci tocca solo aspettare. Ok, fortunatamente possiamo farci un'idea che ci permette di avere il National Tats Modifier del più 10 per 100. Preferisco quello sinceramente alla tecnologia amministrativa che non ci darebbe chissà quanto. Quindi devo dire che va bene così. Sono comunque soddisfatto. Anche se sarei più soddisfatto se potessi allearmi con la Francia. Tecnologia militare ragazzi. Ottimo. Sbammete. Fatta. Francia non è ancora cambiato niente. Male. Uh, evento per migliorare la capitale. Una bestazia a Urbino, 530 di Manpower. Siamo al massimo. Oppure soldi? No, no, Manpower. Direi che ci conviene. Assolutamente. Non ci sono stati sfortunatamente cambiamenti con i francesi. La Spagna non ci aiuterà mai nella vita. Noi stiamo migliorando le relazioni ma sarebbe più in funzione di un'alleanza che altro. Ragazzi, non so perché ma potevamo chiedere supporto ai francesi per l'indipendenza già da un po' a quanto pare. Quindi noi lo facciamo subito. Abbiamo perso un po' di tempo purtroppo. La Francia ha accettato. E noi tiriamo su il mantenimento e dichiariamo guerra allo Stato Pontificio. Che è alleato con Olanda, Inghilterra e Pisa. Malissimo. Malissimo. Va bene. In ogni caso noi dichiariamo guerra. Naturalmente peggioreremo un po' la nostra stabilità ma era inevitabile. Ok, ci siamo. Adesso, cosa andiamo a fare? Statuto di distrettezza d'appello. Minori costi alla stabilità. Sì, buono. Buono, lo andiamo a fare. Successione disputata. Abbiamo bisogno che i francesi facciano un matrimonio reale con noi. Le nostre truppe al momento le ritiriamo in Romagna. Naturalmente la nostra nave se ne è andata. Se scendono anche gli ungheresi potrebbe essere davvero un male. In ogni caso, vediamo il nostro caro Cesare come sarebbe messo come generale. In realtà sarebbe messo molto bene. Wartats non ci servono, a quanto pare. Penso che la Francia si stia dando dei sussidi, ma non ci giurerei. Fatemi vedere un po'. Urbino. No, in realtà è che siamo liberi e quindi guadagniamo di più. Ottimo. Ottimo. Ah, bene. La nostra flotta è anche riuscita a scappare. Possiamo prenderci l'Advisor. Questo qua che ci dà discipline in realtà non mi dispiace. Quindi andiamoci a prendere lui. Ok. E vediamo di occupare la Romagna subito. Noi ragazzi dobbiamo cercare di occupare tutto quello che possiamo dal Papa. Che sarà fondamentale per riuscire in questa nostra missione di liberarci e prendere il più possibile per l'appunto. Ok, adesso ci muoviamo verso Ancona. Tra l'altro il non vedere le truppe pontifici è un minimo mi turba, devo dire. Perché potrebbero essere ovunque. Ah no. Sono là sotto. Quindi sapete che vi dico? Che noi facciamo questo. Allora, per non permettere ai francesi di assediare prima di noi Roma... No. Cazzo, 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 cazzo. Errore. Errore madornale. Uh. Dannazione a Pisa. Dannazione a Pisa. Sta tornando indietro anche quello. Sta tornando indietro anche quello. Niente. Va bene. Andiamo a prendere Roma. Non possiamo permettere che la prenda qualcun altro. Ok. Siamo a Roma. Siamo a Roma. Benissimo. Vediamo di occupare tutto il possibile. Ci aiutano con l'assedio. Questi qua stanno andando a riprendere quello che si trova a nord. Naturalmente noi spereremo in supporto francese in questo. Ok. E adesso comincio l'assedio di Roma che probabilmente durerà un po'. Ok ragazzi. Tra l'altro io chiedo il matrimonio reale con la Francia. Che però sfortunatamente non ci ha dato una sposa. Posso chiederlo anche a qualcun altro? Sì. Posso chiederlo anche alla Castiglia. Se no all'Austria no. Oddio. Posso anche chiederlo a Ferrara. No. Lo chiedo alla Castiglia. Olè. Ci siamo presi una consorte. Catalina. Wow. Una bella ispanica era proprio quello che ci voleva. Tra l'altro non ci hanno occupato niente a quanto pare i ragazzuoli dello Stato Pontificio. Il che è ottimo. Il che è ottimo e ci ha permesso d'occupargli la qualunque. Wow. Carnal Sins. Ok. Essenzialmente ci sono... C'è qualcuno che vuole chiederci qualcosa. Ah è per l'eredità. Eredità. Mannaggia. Abbiamo avuto un figlio bastardo. Un nobile della famiglia Borgio 1-2-2 con una weak claim diventa erede. Oppure due di papali influence. No. Perdonami padre perché ho peccato. Non lo voglio un 1-2-2 con una claim così merdosa. Assolutamente. Non avrebbe il benché minimo senso. Fortunatamente come vedete stiamo vincendo l'assedio. Quindi entro poco dovremmo riuscire a concludere la guerra. L'unico dubbio che ho è sugli alleati. Che tuttavia stanno venendo massacrati. Quindi buono così oserei dire. Ok. Ci siamo quasi. 42%. Carriera nell'esercito. Con la crescita di un esercito professionale. Nuove opportunità di carriera. Crescono. Si creano per coloro con abilità e ambizioni. I vecchi nobili tuttavia. Si aspettano ancora di essere. Di aver riconosciuti. Le maggiori commissioni. Per la nostra tradizione militare. Che da secoli coincide con le loro dinastie. Ve l'ho tradotto un po' così. Quindi cosa volete? Nobiltà guadagna 10 di lealtà. Borghese perdono 10. 15 di armi tradition. Oppure professionalismo. No io preferisco il professionalismo sinceramente. Quindi. Shaogari. Shaogari assolutamente. Ok. No mamma mia Roma. Ragazzi. È durissimo a prendere Roma. Cioè siamo qua da 20 anni. Non ce l'abbiamo ancora fatta. Golden era francese. Benissimo. Benissimo. Noi ci servirà ancora un po' di tempo decisamente. Niente. Non ce la si può fare. Non ce la si può fare. Questo assedio sta durando un'eternità. No francesi. Perché ve ne andate? Ah no. Erano truppe di Never. Ok. Richiamiamo il nostro diplomatico dalla Castiglia. Ne rimandiamo uno a Ferrara. Con cui vogliamo naturalmente un'alleanza. Più reclusamento locale. Uno di Basement Power in Urbino. Ok. Ottimo. Ragazzi. Il primo video durerà un po' di più. Ma voglio finire questa guerra. Ah bene. C'è Pisa che vuole la pace. Potere della nobiltà in declino. Assedio di Roma finito. Perfetto. Allora. Pisa. Naturalmente non riusciamo a occuparla. Però in compenso gli possiamo chiedere le War Reparation. E un po' di soldi. Magari gli facciamo anche qualcos'altro. Gli facciamo annullare. Le relazioni con l'Austria. Con lo Stato Pontificio. Con Mantua. No. Non posso con tutti. C'è suo militare all'Austria. Allora lascialo. E ok. Facciamo così. Chi è entrato nel conflitto. Anche l'Inghilterra. E l'Ungheria. Sfortunatamente. Però io gli farei anche fare una pace. L'Ungheria è messa malissimo. L'Ungheria è messa malissimo. E dire che non accetterebbe una pace bianca. Incredibile. L'Inghilterra invece. Anche loro. Questo è un male. Questo è un male. Stato Pontificio la vorrebbe invece. Sì ma non ci darebbe niente. Fatemi vedere un attimo. Allora. Naturalmente noi vogliamo l'indipendenza. E non ce la darebbero. Poi noi vorremmo. Perlomeno la Romagna e Ancona. Perfetto. E magari gli faremmo anche spezzare l'alleanza sia con l'Inghilterra che con l'altro. Il problema qual è? Che non... Finché non finisce la guerra con l'Ungheria noi non possiamo fare niente. Quindi sapete che vi dico. Io faccio ritirare le nostre truppe a Urbino e lascio ai francesi il compito di combattere contro l'Inghilterra. Anche perché penso che se gli riusciranno a prendere Calais l'Inghilterra uscirà dal conflitto. Mentre per quanto riguarda l'Ungheria in realtà è messa già malissimo e magari con una piccola bottarella francese cede. In ogni caso, legionari, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qua sotto un bel mi piace. E date un'occhiata alle altre campagne presenti sul canale in attesa del prossimo episodio. Aveva tutti i legionari e a presto. Questa guerra la vinceremo.